40 euro per 15 frittelle. È lo sfogo sui social di una cittadina cremonese, la quale lamenta che, se è vero che i negozi del centro sono in difficoltà, non sia questo a suo avviso il modo di tenersi la clientela. Abbiamo chiesto cosa ne pensano altri concittadini. Penso proprio di sì, è una cifra che è un po' importante. Infatti sono appena uscita da una pasticceria e la andavano a numero, una a due euro, una frittella, ma non l'ho comprata. Mi sembra esagerato. In effetti è vero, la vita è aumentata in generale, molto. Può essere. Ce ne sono alcune che magari fanno pagare un po' di meno, però i prezzi sono alti per le frittelle, per le chiacchiere. Sì, è vero, aumenta tutto, però se vuoi stare sulla qualità, io dico che più la qualità è buona, ci sta anche il prezzo. È ovvio che non tutte le famiglie possono permetterselo. C'è chi per la gola non guarda lo scontrino. No, la golosità vince sempre su tutto. I prezzi sono aumentati. Non ci ho fatto molto caso, se devo essere sincera. Chi ha un'attività fa presente che i costi da sostenere sono esorbitanti, dalle materie prime all'energia. Continuo a dire che è diminuita l'energia, a casa mia le bollette le continuano a pagare così. Lei ha preso 15 frittelle vendute a peso, se le ha prese ripiene, se le prende vuote magari spendete la metà. Certo, un'altra cosa, però il prodotto, cioè fai la crema, cioè compra le uova, il latte. Il latte è aumentato anche lui di un terzo, quindi bisogna che recuperarli i prezzi. Non c'è niente da fare, altrimenti l'impresa non sta in piedi.